Italia 1! Io voglio divorziare. Avrà diritto di visita ai figli ogni sabato. Non è sufficiente. Io telefono in Mary fa l'annuncio che ho letto sul giornale. Mi può dire il suo nome? Duffire. Mrs. Duffire. Dio, che cosa ci faccio qui? Oh mio Dio! Oh mio Dio! Mrs. Duffire, sabato alle 21 su Italia 1.